Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Iniziamo il nostro video con la statistica del mese di dicembre che la settimana scorsa mi sono scordato di dirvi, al 31 dicembre 2023 sono nati due bambini e sono decedute 12 persone, i fagnanesi al 31 dicembre erano 12.532, come sempre un caloroso benvenuto e un augurio a tutte le famiglie che hanno avuto il dono di un nuovo bambino o bambina e un sentite condoglianze a tutte quelle persone che hanno perso i loro cari nel mese di dicembre. Problema cestini e deiezioni canine. Da giorni, anche camminando in giro per il paese, è noto sempre più spesso che i cestini per la raccolta dei rifiuti vengono utilizzati per deposito dei sacchi dell'immondizia dell'utenza domestica. Bisogna precisare che quei cestini non sono dei cassonetti per la raccolta rifiuti e che la raccolta porta a porta dell'azienda che segue il discorso della raccolta rifiuti sul territorio di Fagnano non è mai venuto a mancare in questo periodo. Invito quindi tutti a rispettare le norme di legge e i regolamenti del Comune. Adesso troveremo il modo, oltre a controllare le telecamere, come stiamo facendo per vedere chi lascia e abbandona rifiuti in questo modo, a multare quindi le persone che vengono trovate e vengono richiamate dal Comando di Polizia Locale, troveremo il modo magari di segnalare in un modo più puntuale anche questa cosa. Stessa identica faccenda per le deiezioni canine. Non è che perché non si ripete più di una volta nel video di non abbandonare le deiezioni canine in giro per il paese, allora la tensione diminuisce, no, la tensione prosegue, alcune persone sono già state multate e invito nelle zone soprattutto dove siamo coperti dalle telecamere, specie nel centro, che quando si vedono magari delle deiezioni canine trovate la mattina, di avvisare subito il Comando di Polizia Locale, di modo che si possa andare a visionare le telecamere e cercare il modo di chi ha trasgredito alle regole e punirlo. È ancora aperto il bando per il Servizio Civile Universale, è un'importante occasione di crescita per i giovani tra i 18 e i 29 anni, quindi se ci fossero ragazzi che in questo momento non lavorano, sono in un periodo in cui hanno finito di studiare e vogliono impegnare il loro tempo al servizio della comunità, il Comune, gli uffici comunali sono a loro disposizione per partecipare a questo bando e per lavorare all'interno del Comune con questo strumento del Servizio Civile Nazionale. È un importante strumento che innanzitutto garantisce un'entrata ai ragazzi che lo fanno, perché non lo faranno a gratis, ma dà la possibilità a loro di conoscere comunque anche il Comune e come lavorano gli uffici e come gli uffici lavorano per la cittadinanza e per il nostro Paese. Invito quindi tutti i ragazzi tra i 18 e i 29 anni che ne avessero voglia e che sono intenzionati a farlo a partecipare a questo bando. Gli eventi del fine settimana e della settimana. Inizio ricordando che questa sera alle ore 20 c'è la prima camminata inaugurale del gruppo di cammino di Fagnanolona e l'appuntamento per la partenza è al Parco Avisaido ore 20, mentre domani è la giornata della memoria e quindi ci saranno degli eventi legati a questa importante data che ricorda la liberazione da parte dell'Armata Rossa del campo di sterminio di Auschwitz. Domani mattina quindi alle 9.45 in Piazza Alfredo di Dio ci sarà una breve commemorazione dinnanzi alle pietre di inciampo che sono presenti in questa piazza. Successivamente alle ore 10.20 nella sala consigliare del Comune di Fagnanolona ci sarà l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi, è un'esperienza didattica che la si fa assieme al Consiglio Comunale degli Adulti ed è informativa soprattutto per l'educazione civica dei nostri giovani. Sempre sabato allo spazio Osium continua la collettiva dal titolo Cielo Immensi, mentre domenica 28 alle ore 8.30 grande attesa per il ritorno della seconda edizione della San Gaudenzio Ranna organizzata dall'Associazione Negozianti Fagnanesi. Ritrovo qui in Piazza Cavour all'interno del Castello Visconteo. Settimana scorsa abbiamo annunciato l'inizio di questo momento del Sindaco Risponde all'interno del video del venerdì e questa settimana, proprio sabato, è arrivata una domanda di un nostro cittadino che ha chiesto al Sindaco e all'amministrazione comunale novità, domande sulle strade che non sono ancora state sistemate. Questo signor Roberto, adesso noi daremo la risposta, che non è la prima volta che lo diciamo nel video, ma lo dico così almeno anche tutti ne sono ben consci. Innanzitutto i lavori di ripristino delle strade non si sono conclusi, ma si sono semplicemente sospesi per le questioni climatiche. Il freddo del periodo invernale impedisce una buona sistemazione del manto stradale. Appena le temperature torneranno a salire, si riprenderà quindi con il ripristino delle strade, specie quelle della fibra ottica che attualmente sono chiuse ancora col cemento. Ricordo a tutti quanti che il cemento non è la chiusura definitiva, ma è semplicemente provvisoria e ci siamo già lamentati anche con l'azienda che ha fatto i lavori perché alcune strade sono dal periodo di Pasqua che sono in quelle condizioni. Quindi faremo pressione nuovamente sull'azienda perché faccia subito un intervento appena le temperature lo permetteranno. Per quanto riguarda invece il piano asfaltature che si va a chiedere sempre all'interno della domanda, in base alle risorse economiche che il Comune avrà, appunteremo un piano asfaltature per l'anno 2024 e ne porteremo conoscenza tutta la cittadinanza, come abbiamo fatto in questi anni, sempre attraverso il video dicendo magari i nomi delle vie che si andranno a asfaltare. Ricordo per chi lo volesse rivolgere una domanda al Sindaco o all'amministrazione comunale, non resta altro che scrivere qui alla mail sindacocchiocciolacomune.fagnanolona.va.it. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!